Ciao Simo, siccome in un video ha detto che i dolci fanno ingrassare, io e Squalozzi abbiamo trovato la soluzione definitiva. Bravi! Vi mettete a dieta? Banale! Noi siamo andati oltre, abbiamo scoperto come annullare lo zucchero. Un vero colpo di genio. Sono curiosa. Ecco l'antizucchero. Ma, 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 a me sembra sale. Dottor Squalozzi, io avevo detto che se ne sarebbe accorta subito. Ciao amici! In molti mi state scrivendo che desiderate da me un consiglio sulla colazione ideale. Però mi dite anche come deve essere. Dolce ma senza zucchero bianco, che gratifichi ma che non faccia ingrassare. Va bene, va bene! Senza cercare cose troppo strane che poi sono difficili da mantenere durante l'anno, oggi vi consiglio una colazione classica che nutre, rassicura e soprattutto grazie. Gratifica, senza creare quei picchi che poi diventano cali di zuccheri e senza fare ingrassare. Se è vero che i dolci pieni di zucchero fanno ingrassare, è anche vero che c'è un cibo dolce per natura e amico della linea. È la frutta! Colazione con la frutta? Che barba, che noia, che noia, che barba! Non ho detto di fare colazione con la frutta. Immaginate una colazione con il classico e nostalgico pane e marmellata di frutta senza effetti collaterali e senza sensi di colpa. Che ne dite? Ma non dici sempre che le marmellate sono piene di zuccheri? Sì, molte lo sono. Usano lo zucchero per dare sapore e conservare la frutta. Ma oggi ho selezionato per voi le confetture più golose e confortanti, che non hanno zucchero e quindi aiutano a dimagrire, a mantenere la linea, fin dal mattino. E ho selezionato un pane che ha più proteine che carboidrati, quindi dà veramente energia e non in grassa. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ecco qui la mia prima colazione trendy e sana. Una bella tazza di latte vegetale o caffettone d'orzo, per rispettare lo stomaco e l'intestino. Un paio di fetti di pane proteico e una confettura di sola frutta. E dove lo trovo il pane proteico adesso? Ma è semplice, lo spiego in questo video. Dopo andate a vederlo. Questa marmellata cos'ha di diverso dalle altre? Questa confettura contiene frutta selezionata, super saporita e nel barattolo non ci sono zuccheri, ma solo frutta e ingredienti sani. Queste sono le marmellate della Foodspring, che oltre a essere il mio sponsor ufficiale e fare degli ottimi prodotti, offre anche uno sconto del 15% a tutti i miei followers. Alla fine del video vi spiego come averlo. In queste confetture ci sono tre differenze principali rispetto alle altre. Prima differenza. Non ci sono zuccheri aggiunti nessuno, nemmeno quelli estratti dalla frutta. Per questo è perfetta come colazione sana per chi vuole dimagrire, ma anche per chi vuole stare in forma, aumentare i muscoli e chi deve stare proprio attento agli zuccheri. Seconda differenza. La frutta è selezionatissima dal 55 al 60% in base al gusto e al sapore della confettura. Ma è sempre frutta controllata e di ottima qualità. Non ci sono scarti della frutta o frutta scadente, come ho letto che fanno alcune marche anche di qualità. Per questo la marmellata Foodspring conserva tutto il sapore genuino della frutta fresca, come se avessimo appena fatto la marmellata in casa. Terza differenza. La cremosità. Grazie alla lavorazione e al giusto rapporto tra frutta e pectina, la marmellata Foodspring è cremosa, liscia, vellutata, una vera goduria. È perfetta da spalmare sul pane le fette biscottate, i pancakes, le gallette di riso o di mais, ma anche per farcire i dolci o mescolarla allo yogurt o metterla negli smoothie, nei frullati, per iniziare bene la giornata. Simona ci stai facendo morire di voglia, faccelo assaggiare. Certo, che gusto, albicocca, lampone o fragole? Io ho aperto prima le fragole perché le adoro. Non è buona, è buonissima, è speciale, ma veramente. me la mangio tutta, portatemela via. Sono contenta che vi piaccia e ora mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella qui sotto. Senza notifiche YouTube non vi avvisa quando escono i miei video e vi perdete tutti i miei migliori consigli per stare in forma. E per chi vuole aiutarmi concretamente nella mia mission di divulgazione del benessere naturale, c'è il bottone abbonati qui sotto. Forza cliccate, abbonatevi. La confettura Foodspring è davvero fantastica, è light, nutriente, profumata, aromatica, amica della linea. E poi è energetica e ci mette di buon umore fin dal mattino. E potete averla a casa anche voi con il 15% di sconto. Cliccate sul link in descrizione qui sotto e usate il codice sconto Vignali Piccolo YT grande quando richiesto. Vi ho scritto tutte le istruzioni in dettaglio qui sotto. Ora condividete questo video e fatemi sapere se volete anche conoscere qualche ricettina fatta con questa delizia prima che me la finisca tutta direttamente dal barattolo. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Ciao! It's a high shirt, isn't it? Ok! Lo spiego!